Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break2Play ed eccoci qui con un nuovo episodio dei Just a Look che penso la metà di voi forse conosca Cosa sono i Just a Look? Sono episodi singoli di videogiochi che è tantissimo tempo che non faccio e tra l'altro sono appena andato a vedere quando è l'ultima volta che ho pubblicato un Just a Look è il 22 aprile dell'anno scorso, quindi è precisamente un anno oggi che pubblico che non faccio Just a Look e quindi rieccoci qui, ho deciso di riavviare questa serie perché ci sono un sacco di giochi che voglio mostrarvi ma non ho tempo di farci delle serie, quindi ho preferito appunto riavviare la serie dei Just a Look che non si è mai fermata a dire la verità perché inizialmente la proponevo come serie settimanale ma poi ho scelto di farla una volta ogni tanto quando trovavo un titolo che mi piaceva e direi di poter sfruttare appieno la pausa che ci siamo presi da Planet Coaster per mostrarvi Roller Coaster Tycoon World che ha ricevuto un sacco di recensioni negative e però, però, lo stanno migliorando proprio oggi è uscita una patch ragazzi che migliora la fisica delle montagne russe e oggi andremo a provare Roller Coaster Tycoon World allora, abbiamo, guardiamolo subito il menu, andiamo a vedere nelle opzioni abbiamo campagna, costruisce un parco a tema, che vuol dire? posso scegliere, inizia, ah no, scusate, opzioni, ah eccolo qui si apre questo menu laterale, generale, cosa abbiamo? abbiamo la lingua, la possibilità di scegliere l'italiano come gioco ragazzi è già molto completo, Roller Coaster Tycoon World è molto più completo di Planet Coaster che è per adesso un semplice editor e sandbox direi, direi, direi di dare un'occhiata veloce abbiamo addirittura il campo visivo telecamera, dovrebbe essere FOV collisione videocamera intelligente insomma, ci sono un sacco di impostazioni per quanto riguarda la grafica dovrebbe aver messo tutto al massimo qui ci sono i comandi, audio, con 6 volumi effetti, musica, cui, ambiente, volume, notifiche addirittura ok, cosa facciamo oggi? abbiamo la campagna, costruisci un parco a tema e una foresta tranquilla direi, ragazzi, di scenari costruisci, invece, Selve Ventose fa migliorare un parco di successo Penny Park vi sarà un parco in fallimento introdotto generato per il visitatore andiamo a prendere la campagna anzi, gli scenari, ragazzi andiamo a vedere Selve Ventose così almeno vediamo già un parco realizzato e magari ci realizziamo poi andiamo in una modalità sandbox e realizziamo una montagna russa perché comunque è quella la cosa fondamentale che ogni gioco di questo genere deve far funzionare bene l'editor di Montagne Russe l'ho provato, non è intuitivissimo però, però, insomma, penso sia solo questione di abitudine è un parere personale è più intuitivo quello di Planet Coaster però questo forse riesce meglio a farci realizzare delle montagne russe più lineari allora, andiamo a mettere il gioco in pausa cosa abbiamo? obiettivi bronzo fa in modo che il valore del parco superi 75.000 obiettivi argento fa in modo che l'introdotto del parco superi 4.000 al mese oro 6.000 al mese e il valore superi 90.000 allora, andiamo un'occhiata a quello che abbiamo allora, intanto la grafia, ragazzi, è un gioco ancora in early access però sembra che abbiano migliorato anche i personaggi non proprio allora, andiamo a vedere, per esempio Kevin Jay ha Nausea 9 bisogno di bagno 34 sete 40 fame 26 energie 38 noia 11 felicità 14 queste sono la pagina delle statistiche queste sarebbero statistiche pagina attrazione tolleranza nausea 1 molto passa, immagino gamma, preferenza e intensità da 2 a 30 pagina acquisti preferenza acquisto 3 stelle di soldi acquistato niente portato un souvenir ok pensieri immagino che dovrò accontentarmi di memory lane 1 questo cappellino verde al memory lane 1 è un buon affare i biglietti per salve rosse sono sorprendentemente economici e qui abbiamo la storia del nostro visore visore storia visitatore forse ok andiamo a vedere magari ora questo è l'abbiamo appena avviato andiamo a vedere cosa abbiamo qui abbiamo un bel parchettino molto molto ben fatto semplice regolare ma molto carino questo è quello che desidererei fare molto in planet coaster e dunque poi qui abbiamo degli stand questi sono degli edifici a sé stanti andremo a dare piano piano un'occhiata nelle nella grafica ragazzi non ho dato proprio cioè ci ho giocato a malapena quindi non non vi posso dare informazioni troppo approfondite qui abbiamo un centro informazioni infobot 1 andiamo a vedere finanze incasso all'ora 0 spese di gestione queste qui sicuramente ci darà un bonus diciamo di qualità all'inter il nostro parco bear i cute orzacchiotto gigante ah vendono orzacchiotto gigante a 4 dollari per i bambini incasso all'ora 288 e costa 50 di gestione quindi come vedete abbiamo un 238 di positivo abbiamo la possibilità di personalizzarlo con suono musica generale oppure avventura fantascienza western e carosello quindi queste qui sono appunto piccole personalizzazioni che però ci aiutano a rendere il nostro parco un qualcosa di più carino cavolo è grosso il parco pensavo fosse solo questa parte iniziale dunque questa piccola è una montagna russa questo è memory lane 1 ho visto ne parlava the deep dive 1 ok allora qui cosa abbiamo questo è memory lane wooden coaster allora ragazzi io direi di fare una bella videocamera di questo giro di questa nostra montagna russa per vedere appunto com'è peak of my popularity 750 abbiamo i visitatori in aumento siamo a 410 ok mettiamo velocità 1 e vediamo un po' allora a livello grafico ragazzi è un po' tirato via il gioco però sembrerebbe che davvero stiano migliorando la mia aspettativa per questo gioco era alta e è stata un po' diciamo tradita e è per questo che ho scelto di lasciarlo in secondo piano rispetto a planet coaster ok partiamo questa è una montagna russa molto lenta come vedete immagino che ci sia un'altra rampa sia tipo un carrello della miniera un'altra rampa anche abbastanza ripida e vediamo di salire anche su questa rampa possiamo regolare il tempo da qui si ok andiamo a velocizzare un attimino perché altrimenti ci stiamo due ore a fare questa rampa bella però questa discesa di fronte alla cosa alla ruota panoramica ok scendiamo un po' troppo lentamente però ragazzi i freni tan 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 ok allora ragazzi a differenza di planet coaster dove ogni montagna russa funzionava a parte i problemi in salita ma per quanto riguarda la frenata finale qui ci devono essere freni adeguati questo che cos'è questo qui immagino abbia una telecamera si è tipo un giro giro tondo videocamera del giro precedente al prossimo giro a livello di traduzione non è fatta benissimo come vedete giro si riferisce ai posti a sedere quando in realtà si tratta di non c'entra su niente il giro e vediamo di vedere come funziona anche questa attrazione ora daremo un'occhiata visiva a quello che c'è nel gioco in questo momento e poi inizieremo a guardare la parte gestionale parte gestionale che per esempio in planet coaster è totalmente assente per adesso ovviamente ok semplicemente giro giro tondo gira tutto il mondo poi con altre attrazioni abbiamo la ruota panoramica abbiamo la casa degli spettri bella 1,50 euro possiamo scegliere ogni tipo di prezzo di ingresso qui cosa abbiamo le opzioni di manutenzione numero di cicli 2 modalità operativa numero di cicli 2 capacità di attesa totale attesa minima 5 secondi attesa massima 1 minuto intervallo di ispezione 30 minuti ogni 30 minuti c'è un'ispezione è il tema western la soddisfazione clienti clienti allora 24 totale clienti 2 soddisfazione 0% popolarità 74 6 minuti e 23 di coda in cassa 36 spendiamo 49 questo è negativo possiamo ecco visto che teniamo a western possiamo dargli una musica western anche se sarebbe più avventura magari no avventura è più alla alla indiana jones ragazzi questo lì dovrebbe essere un'avventura un pochino più paurosa qui abbiamo la torre che tra l'altro sta ah no non è la torre è la torre di osservazione possiamo ruotare la nostra visuale da qui si non possiamo muoverci però come vedete ragazzi ecco questa è una delle cose che rende questo gioco brutto ovvero la poca attenzione per i dettagli però allora dovrebbe essere già in versione definitiva però l'hanno rimesso in early access perché ragazzi non è finito il gioco non è assolutamente finito andiamo a dare un'occhiata a questa montagna russa qui o ce la guardiamo solo da fuori non è niente di che non è niente di che no no di qua abbiamo altri altri cose per esempio cibo asiatico qualità media possiamo scegliere la qualità più alta immagino che ci faccia aumentare la spesa in questo momento non ci va nessuno qui dentro la personalizzazione possiamo solo personalizzare il la musica per adesso e invece per quanto riguarda le montagne russe possiamo anche cambiare il colore di questo ne sono sicuro andiamo a vedere di fermare un attimo questa montagna russa e andare a modificarla se ci riesce come si fa? così montagne russe clicchiamo su questa ok possiamo modificare come facciamo? trazione di base s soddisfazione ah ok qui abbiamo risultati test e statistiche attrazione ad edip dive 1 adrenalina 5,5 molto alto non molto alto 5,59 c'è anche il dato più preciso numericamente più preciso intensità 10 molto alta ok 10,2 immagino sia la media cioè la media della velocità ah un'altra cosa ragazzi vedete lagga molto quando siamo a distanza dai nostri clienti nausea 6,2 alto sicurezza 11,9 estrema ok quindi abbiamo anche la possibilità di mettere delle montagne russe totalmente insicure velocità massima 93 velocità media 28 durata trazione 1,13 lunghezza 572 metri forza verticale massima positiva più 8,60 e negativa meno 1,50 forza laterale massima 4,78 totale tempo in aria immagino che sia il momento in cui diciamo in salita passiamo all'orizzontale che ci sentiamo staccati numero 16,6 altezza di scese massima 34 metri e questo infatti è il grafico della velocità poi c'è il grafico dell'altezza della forza verticale della forza laterale interessante questa cosa molto mi piace lo studio della fisica è un buon affare mi basta guardare deep dive per stare male vorrei fare un giro su qualcosa in meno intenso vorrei fare un giro su qualcosa in meno intenso mi basta guardare quello per stare male infatti sì guarda probabilmente ragazzi il nostro si è rotta sportelli bloccati fermi un attimo diamo un'occhiata ecco questa qui è un'altra cosa dell'aspetto gestionale del gioco che è interessante allora il tuo parco è troppo buio forse dovresti aggiungere qualche lampione la trazione observation tower si è rotta sportelli bloccati chiusi immagino che ci sia adrenalina 3,5 intensità 1,9 nausea sicurezza possiamo che dire modalità operativa osservazione affidabilità 93% immagino che sia automatica la gestione di queste cose il tuo parco è troppo buio forse dovresti aggiungere qualche lampione allora sentieri a file paesaggio ed edifici attrazioni modifica terreno sposta demolisce non lo vogliamo paesaggio pali sentiero ok possiamo andare a posizionare siamo totalmente liberi c'è uno snap no c'è uno snap ok forse gli stavo dando troppa poca fiducia ragazzi a questo gioco sembra carino vediamo se aggiungendo giusto qualche lampione c'è una statistica al giro non lo so come vi ho detto sto provando insieme a voi questa cosa che cos'è questo? ah ospite nel parco per azione parco prezzo ingresso 10 salve ventose possiamo cambiare il nome valutazione parco globale 987 che vuol dire questo? ah su 1000 ok come varietà di detrazioni siamo a poco molto basso come bellezza soddisfazione qualità attrazione per quanto riguarda il valore del parco abbiamo valore della compagnia abbiamo il valore del parco il valore dei negozi e il valore delle attrazioni immagino che la somma di questi 3 dia proprio questo qua sopra infatti abbiamo 58 e 3 più 31 80 no forse c'è una svalutazione della roba ospiti del parco abbiamo come vedete gli ospiti generali bambini teenager e adulti divisi in queste 3 categorie i pensieri che ci sono queste sono le notifiche abbiamo raggiunto i 10.000 i 10.000 il valore del parco lo vediamo profitti portafogli salve ventose eccolo qui 57.930 ok la felicità ci la fa vedere si fa vedere sempre questa statistica andiamo a vedere possiamo visuale libera siamo liberi immagino di girare dove vogliamo possiamo entrare nelle orecchie della gente salve amico asiatico non sembri asiatico poi hai un problema al fegato e qui abbiamo un momento della giornata lo possiamo bloccare penso all'orario questa è la data domenica 11 febbraio del primo anno sentieri a file paesari allora andiamo a vedere sentieri a file andiamo a vedere come funzionano i vari editor ragazzi e poi penseremo alla parte gestionale sentieri dritti ok sentieri dritti ah ok devo cliccarci clicchiamo su un sentiero già esistente vogliamo fare un sentiero dritto con shift lo possiamo bloccare no vediamo se abbiamo modalità libera tenere premuto shift regola con la rotella del mouse ok possiamo fare l'altezza così io lo voglio rimettere a terra c'è uno snap griglia ok eccolo qui allineamento alla griglia perfetto oppure allineamento ah possiamo scegliere allineamento così eccolo lì c'è uno snap rispetto all'esistente oppure uno snap alla griglia che non possono essere derivati insieme come vedete bene facciamo un percorso dritto ok e questo abbiamo scelto la pavimentazione qual è quella selezionata? questa? sì dovrebbe essere questa qui esagoni rosso vediamo un attimo sì sono esagoni lossi andiamo a cambiare un attimino andiamo a prendere percorsi curvi clicchiamo qui immagino che sia da fare in due tempi come per se vi ricordate le strade di city skyline esatto e qui vediamo di fare tipo così e così ok usciamo premiamo il tasto esc vediamo un attimo fra un costo e l'altro ci vengono messe le griglie interessante è un'ottima scelta questa qui ragazzi per evitare che si creino texture che si uniscono senza senso in questa maniera con le griglie per la calda delle acque è un'ottima scelta ottima ottima ok poi abbiamo le file le file immagino che siano identiche alle strade si con i parapetti ma poi per il resto sono identiche alle strade ok quindi questo è su sentiere e file nel paesaggio abbiamo l'illuminazione ci sono diverse cose abbiamo come vedete lampioni a tema fantascientifico per esempio lampioni a tema classico la torcia di bambù c'è un po' di performance non proprio studiate bene in questo gioco infatti cala un po' altoparlanti ok ah che semplicemente aggiungono addobbato poi abbiamo freccia avanti ok ah wow wow bella bandierina striscione più faccia Italia why not ok abbiamo in tante zone ora andiamo a togliere questi due lampioni ok ok grazie andiamo a vedere delle decorazioni sentiere abbiamo le panchine di vario tipo fantascientifica western ferro bambù cemento cestini di vario tipo cestini 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 di vario tipo ottimo ragazzi ottimo tavoli da picnic di vario tipo e basta andiamo a vedere per esempio un cestino di bambù da mettere in una zona a tema penso tribale o una cosa del genere e poi abbiamo il tavolo da picnic da picnic naturale che può essere messo solo accanto ai sentieri però per esempio nei sentieri non ho guardato una cosa se c'è il sentiero di sabbia ok stile ranch possiamo fare qui siamo ancora nelle code però ragazzi vedremo un attino avanti perché ok possiamo fare sì anche terriccio quindi un sentiero di terra che sa molto ovviamente di zona picnic facciamo una cosa buttata lì e qui ci possiamo fare una bella una bella zona per picnic quindi recensioni possiamo aggiungere recensioni snappandole alla parete guardiamo un attino ecco togliamo da griglia mettiamo allineamento eccolo lì ottimo e si snappano fra loro perfetto però per esempio se volessi snapparle a un angolo esistente chiedo troppo si ruota con come si ruotano le cause ehm dunque rotazione ah sempre con la rotellina del mouse ok qui non ce lo può fare non so per quale motivazione vabbè questa cosa qui c'è da rivederla comunque abbiamo di bianca tradizionale ferre mattoni pietra cioè non proprio bella vabbè sembrava peggio ferro e cemento in ferro illuminata in ferro e mattoni wow ci sono un sacco di cose ora a livello di personalizzazione non sembra troppo alta abbiamo addirittura recensioni così brutte facciamo una partita a tennis guardate ci vuole fare una partita a tennis niente e poi abbiamo 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 recensione di cioè addirittura queste qui che sembrano industriali vabbè ok qui siamo solo a paesaggio ragazzi è decorazione quindi 30 spot light penso sia all'angolo rispetto al terreno costa 8 possiamo ruotare ci fa vedere l'angolo di rotazione rispetto all'originale possiamo levare allineamento e ruotarlo di quanto vogliamo perfetto come vedete infatti possiamo ruotarlo con una precisione di 5 gradi perfetto abbiamo 15 30 45 60 e 90 oltre a lampione western e varie cose a tema poche ma della verità rispetto a quanto immaginavo in decorazione che dovrebbe essere quella più wow che spuglia ecco ecco è un po' fatto male un po' parecchio è fatto male però vabbè abbiamo un po' di cespugli di varie forme e una palla di fieno solo a soletta che non ci incasta niente col resto piante e fiori diamante spaziale azalea rosa ora sto posizionando un po' di roba a caso un po' di alberelli piccoli immagino che gli alberi più grossi siano dopo queste piante e fiori l'ova piccola aiuole ok queste sono molto carine le aiuole già delineate come questa non ce ne sono troppe e poi abbiamo gli alberi alberi che possono andare immagino dall'enorme quercia l'albero morto l'albero morto al fungo spaziale va bene formazione rocciose ok rocce anche qui ne abbiamo un sacco che naturalmente possiamo andare a ruotare non possiamo regolare l'altezza a quanto pare almeno non conosco il comando se c'è abbiamo anche formazione rocciose stile Grand Canyon però come vedete si perde molto nelle texture dovrei aver impostato al massimo le texture però non lo so forse c'è la possibilità di regolarle anche da qui vediamo un attimo no grafica non è regolabile dal gioco ritorniamo al paesaggio andiamo a vedere facciate il tempio dei visitatori che vorrebbe dire? che questa è una cosa che noi possiamo posizionare per probabilmente tappare i fondali non penso che sia ingresso a niente quando le giostre si fermano selvaggio west si questi ragazzi sono fondali da mettere nelle strade che effettivamente è una cosa più realistica rispetto a quella che di solito facciamo su Planet Coaster però però non mi piace vedere dietro vuoto non lo so vabbè cioè il fatto di vederlo dall'alto il parco fa perdere tutta la magia perché il fondale è bello quando uno lo vede di fronte ovviamente dice wow qui c'è una cosa no in realtà è un pannello dei pali dietro vabbè pezzi centrali che vorrebbe dire pezzi centrali? punto foto segnala un panorama particolarmente scenografico ah ok questo penso sia un punto in cui possiamo posizionare questo questa foto ok tipo così lo possiamo mettere un attimo scusate che ho il mouse quella rotellina cambia qualcosa se lo muovo no c'è sempre la stessa immagine abbiamo messo un punto foto e cosa c'è nel punto foto delle montagne russe ah ok penso che sia un punto in cui la gente può andare a fare una foto non lo so statua di Dusty statua di Erol statua di Yuna statua di Robin ancora in attesa è bellissimo come nome perché c'è il naufrago lì con la nave e il barile tesori semisepolti ok facciata di teschio Tempio Maia una specie di sonda spaziale l'aguglia che non è il pesce è l'aguglia portale stellare una sfera un carro western delle fontane le rovine dell'avventura bello ragazzi sono molto grandi ecco sarebbe bello riuscire a poter ricreare una cosa del genere con l'editor che è quello che più o meno facciamo con Planet Coaster però a livello di tempo che uno impiega a fare le cose particolarmente belle in Planet Coaster qui si risparmia molto tempo e si prende quello che c'è di default wow enorme sta cosa però vabbè punti di vista punti di vista ok qui abbiamo Exit Sim Exit Sim Ah ok sono cartelli archi archi da mettere sulla strada penso non lo so i cartelli a trazione wow cartello imbaglierato arco elegante la volta del serpente la volta avventurosa cartello futuristico piccolo arco fantascientifico porta western e il carro specialità ok penso siano delle piccole decorazioni da aggiungere per ogni tema e contenuti generati dagli utenti che in questo momento non ci sono penso che siano dall'utente o dagli utenti o è lo steam workshop o sono dei preset creati da noi edifici ragazzi adesso iniziamo con la parte gestionale cibi e bevande cibi e bevande allora abbiamo per ogni tema una struttura cioè bevande normale bevande avventura bevande fantascientifico bevande western e poi passiamo al chiosco burger di ogni tema sarebbe stato più semplice mettere semplicemente bevande e poi cliccavi sul tema però un raffinato ristorante di cucina ristorante del taglialegno ora vi sto dicendo le cose che non sono tematiche come per esempio sushi cucina asiatica asiatico da portare via insalatiamoci poi questo è un cibo per vacche cioè chiosco di ristorante ah no ok ah è quello insalatiamoci nei vari temi quinoa e kale cucina sana pomodori ecco poi abbiamo l'apple cucina italiana spaghetti che è logico no cucina italiana stile però ci sono i più tipi cioè questa è la spaghetteria la polpetteria e questo è il ristorante ok l'italia sul piatto lo chef che ti fa rifiutare i tacos quindi cucina messicana altra roba piccante casa mexico zuccheri zuccheri a non finire fragole e cioccolato e la casa del sand bello questo mi piace anche grosso tra l'altro ok e c'è la stradina davanti posizioniamone uno per vedere com'è tipo così ok e andiamo a mettergli una stradina da sentiere a file ok così ora gli abbiamo messo quella di terra andiamo a uscire da questa modalità selezioniamolo abbiamo la possibilità di aprirlo qualità media andiamo a vedere qualità bassa cosa cambia allora in questo momento spendiamo 148,50 all'ora se andiamo a mettere qualità media andiamo a spendere 222 si aumenta ragazzi la soddisfazione ma anche il costo per tenerlo aperto la possiamo mettergli la musica ma non lo faremo e poi basta alla fine dei conti si 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 mi piacerebbe vedere più descrizione nelle cose tipo magari la scelta del tipo di gelato il nome da dare al gelato della gelateria qui vabbè però accontentiamoci edifici quindi cibi e bevande negozi di souvenir stessa cosa ragazzi divisi per temi per tipo da negozi di palloni palloncini un negozio di souvenir generico orsi dolci che vendono orsetti diti di combapiuma occhiali cappellini e t-shirt i servizi del parco abbiamo il punto informazioni bagno piccolo e bagno grande per adesso il personale abbiamo alloggio dei medici personale medico per immagino stare dietro a eventuali ferite riportate ai nostri clienti edificio medici ok quindi cambia il costo diventa tipo quattro volte tanto però immagino ci siano molti più medici alloggio dei custodi edificio dei custodi i meccanici i meccanici e gli artisti e gli artisti ok quindi immagino medici gente che pulisce il parco gente che ripara le attrazioni che si rompono e immagino questo sia per i per le mascotte andiamo a vedere nelle attrazioni cosa abbiamo allora bambini famiglia adrenalina bambini scivolo a spirale ok un semplicissimo scivolo ci dovrebbe anche essere qui esatto eccolo qui scivolo a spirale un semplicissimo scivolo giro sul carro a tema western una variante carosello contrattore sorci scorci di vita campestre questo c'è mi pare di no mi pare di no e forse si eccolo qui è questo sì high ride sì poi abbiamo lo scivolo ondulato classico immortale la giostra di cavalli ancora più classica ancora più immortale e la banana tycoon che bello banana tycoon si adora in vagone in forma di casco di banane che si alza e si abbassa mentre ruota intorno alla piattaforma li mettiamo di tempo in avanti insomma in gioco se almeno abbiamo anche un po' di effetti auguri invece di questo silenzio primente la corsa nel canyon quindi a tema western con una piccola montagna russa premade e la ruota del far west eh ruota panoramica far west andiamo a vedere attrazione famiglia che sono immaginosa una via di mezzo guerre spaziali bello uno scompartimento interno è arredato come una navicella spaziale circondata da schermi a forma di oblò il tutto è montato su un meccanismo trazione ferri su elle si è rotta sportelli bloccati e chiusi non importa il tutto è montato su un meccanismo che si inclina per simulare il movimento immagino anelli di saturno una variante della giostra in cui i visitatori si adono i navicelli si alzano e si abbassano calci in culo toro furioso ok il toro ali selvagge immagino che sia un calci in culo più cattivo non lo so circo generico torri di osservazione abbiamo visto la casa stregata l'abbiamo vista ruota panoramica insomma non c'è bisogno di spiegazioni tornato più o meno abbiamo presente a vederlo cos'è e tazze pazze sono le tazze passiamo alla roba seria attrazioni adrenalina infatti qui ragazzi si sono sbizzarriti un pochino di più iniziamo da super flyer i visitatori possono imbracare indossano le imbracature e sono hissati a grandi altezze poi vengono scaraventati tramite un grado wow figo ce l'abbiamo? no questo lo voglio vedere però super flyer ok ragazzi passiamo ho zoomato un cicinnino oh mio dio quanto cazzo è grosso questo questo gli alberi levi da solo vero? cioè ti devo levare gli alberi seriamente? forse c'è solo poco spazio però mi sa che dobbiamo levargli l'alberi ragazzi o forse non è forse non è abbastanza piatto il terreno non ci dice come mai non lo può posizionare modalità libera 1 e 2 sollevamento proviamo a sollevarlo quanto lo possiamo sollevare? così vabbè mmm non ce lo fa mettere tappeto volante ok questo è piccolo ah sì sì sono gli alberi ragazzi sono gli alberi dannazione ma è tipo b possiamo fare tipo cos no eh cioè dobbiamo pulirne uno per uno se vogliamo mettere le attrazioni più grosse ok ragazzi lasciamo perdere quindi andiamo a vedere magari modificare il re lo strumento sposta andiamo a vedere ecco mappe di calore che cosa vorrebbe dire? mappe di calore ah ok introiti oh le mappe tematiche quanto le adoro introiti parco che vanno da 0 all'ora a 1000 all'ora quindi quelle blu non guadagnano niente quelle giallogno le guadagnano di più cioè guadagnano circa questo quanto guadagna per esempio non ce lo dici sarebbe che anzi quando uno passa il maulso per vedere quanto solo montagne russe ok abbiamo anche pensato in montagne russe l'avevo vista ehm solo attrazioni a terra quelle quello che guadagna di più è questa che abbiamo provato e solo negozi quello che guadagna di più è questo qui all'ingresso l'istituto all'ingresso popolarità del tema ehm dunque solo solo generale solo avventura solo western che vorrebbe dire ehm i temi i temi caratterizzano la popolarità più è verde scuro e più è popolare all'interno di quel tema il tema western ce ne sono due sono arancione una via di mezzo boh solo generale andiamo a vedere solo western boh non lo so cosa voglia dire e poi abbiamo eh finanze ok ci fa vedere tutta una tabella con guadagni e perdite di gennaio e febbraio il mese attuale eh febbraio abbiamo perso un sacco di soldi e principalmente perché abbiamo speso 1924 nella costruzione di cibi e bevande abbiamo perso 4508 anzi no abbiamo perso 1867 quindi eravamo in positivo se non avessimo speso i soldi in questo mese invece siamo in positivo per adesso finanze in base all'attività biglietti abbiamo venduto questi soldi di biglietti e abbiamo speso questi negozi per cibi e bevande per esempio adesso siamo in positivo queste sono le vendite e le spese di gestione dei nostri negozi siamo in positivo nel mese attuale che è il 12 marzo negozio souvenir tutto in positivo abbastanza basso però operazioni parco come vedete queste sono le operazioni abbiamo fatto all'interno del parco finanze in base al tema ok adesso possiamo vedere per quanto riguarda i temi questo è generale questo è in base al tipo di attività quindi attrazioni negozi e gestione del parco negozio souvenir finanze in base al tema quindi tema generico tema avventura tema fantascienza western eccetera eccetera in base all'attrazione abbiamo come vedete tutto elencato per attrazioni per bambini elenco attrazioni per la famiglia elenco attrazioni ad adrenalina elenco montagne russie elenco chioschi elenco poi abbiamo le statistiche a vedere gli introiti l'introito totale è questo il numero medio di visitatori è questo come vedete è calato molto l'introito medio per visitatore perché adesso abbiamo molti più visitatori il numero medio di visitatori rispetto ai mesi passati ma l'introito medio è calato infatti stiamo guadagnando meno però ancora non è finito il mese l'introito totale dei biglietti è questo l'introito per visitatore l'introito totale delle attrazioni il numero medio di visitatori ok qui ci fa vedere proprio statisticamente guadagni e perdite ci fa vedere anche le perdite guadagni dei negozi ok e prestiti e marketing ah ok abbiamo la possibilità di prendere dalla banca valle dei conigli 10.000 dollari di prestito ok e questi sono investimenti allo 0,2% che vuoi vedere raggiungi 115.000 per avere un prestito di 100.000 ci costa 875 al mese in questo momento stiamo guadagnando 1.315 quindi uno potrebbe anche prendere 10.000 marketing possiamo spendere per la campagna di marketing in questo momento abbiamo 5.800 e possiamo fare una campagna attrazioni adrenalina per un mese a 1.600 lo facciamo abbiamo spesso messo i soldi però teoricamente il prossimo mese arriveranno più persone ok quindi questa è la parte gestionale abbiamo il centro social che ci fa vedere i miei contenuti locali ok in media penso siano video i progetti che abbiamo le mappe e l'UGC UGC mi piace ok torniamo al menu principale esci menu principale e andiamo intanto a vedere le texture se non dovessero essere al massimo ok opzioni grafica livello di dettaglio molto alta non c'è anti-aliasing disabilita guai ok abilita adesso mi piace se vede la differenza andiamo a fare sandbox ragazzi andiamo a scegliere canyon capriola si denaro limitato e piano 1 perfetto così vedremo le attrazioni adrenaline faremo una montagna russa come minimo ehm perchè comunque anche le montagne russe sono abbastanza lunghe da fare non voglio far durare troppo questo episodio e quindi inizieremo subito a vedere le attrazioni adrenaline e poi vedremo quanto tempo ci avanza per fare le montagne russe ehm però le montagne russe vanno fatte ok facciamo uno stradone dritto ragazzi tanto è solo un test non vogliamo giocare non vogliamo fare niente di design allora attrazione 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 siamo in questa valle dei canyon quindi perfetto al tema ehm western qui ci sono tutti i parcheggi fatti così a semicirchio molto bello tra l'altro ehm mi piace anche il fatto appunto che sia studiata la viabilità della zona retorsante sarebbe bello studiare anche la viabilità di parcheggio però questa è una malattia gestionale che vabbè lasciamo perdere abbiamo soldi limitati quindi nessun problema ragazzi siamo in negativo con i soldi allora andiamo a vedere di fare questo super fryer super fryer ok adesso è qui vediamo di posizionarlo in questo punto e vediamo di collegarlo anzi possiamo fare test test allora in questo momento super fryer ci da 5 7 5 6 12 e 4 questi dati non li vediamo prima ma nemmeno se clicco il tasto destro ecco questa cosa del tramonto blocchiamo un momento la giornata per favore se no questa luce non mi piace per niente allora questo è l'ingresso abbiamo detto quindi dobbiamo fare una fila abbiamo la dimensione della strada ragazzi eh che la possiamo regolare il tuo parco ha ricevuto il tuo primo visitatore che culo vediamo di fare una fila semplicissima così e per uscire una strada ok ecco il nostro primo visitatore salve amico come ti chiami quanti sono? sono uno solo Sophie P hai 37 anni fa mi sei venuta nel posto sbagliato e andiamo a testare aperto test possiamo testare? no a quanto pare no vabbè mettiamo un attimino degli edifici di servizio tipo un bagno e un cibo e bevande un super burger volevo mmm così un super burger e un negozio di bevande antichi assietato ora le sto mettendo totalmente a caso ragazzi apriamo 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 ok abbiamo 5 visitatori adesso iniziano a aumentare velocizziamo il tempo e se ne vanno tutti alla trazione adrenalina naturalmente entrando dall'uscita perché oh è partita ok wow 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 ok ho il tempo velocizzato ah ma è proprio una cosa abbastanza semplice cioè questi qui immagino che fossero attaccati tipo qui non lo so velocizziamo il tempo per vedere quando riparte ok si ferma va lì aspettiamo che parta immagino che si appunto vengano sparati grazie a questi cosi abbiamo solo due sedute ovviamente ok la signorina è coraggiosa e se la sente di fare il primo giro su questo coso vieni poi ti sei messa oh ah sono tre posti a dire la verità per ogni voi ve la sentite eh guardare il pavimento così vabbè cosa succederà guardiamo cosa vedono loro 3 3 3 ok vedo una corda che si sta spostando immagino che ci stiano per sparare verso l'infinite d'oltre la corda si è fermata ci siamo ok veniamo tirati in su ah ok ci stanno tipo caricando tipo fionda ok wow ok niente di che quello è stato lanciato vabbè vabbè molto lenta come attrazione come animazione vabbè vabbè non è rimasto un po' deluso andiamo a vedere le altre attrazioni adrenalina abbiamo il tappeto volante questo farà il tappeto volante volerà ok ora le posizioniamo tutte poi vediamo il tappeto volante pirata predone immagino sia la nave che ondeggia si vabbè questa non la mettiamo ragazzi lo sappiamo se la nave ondeggia il pendulum semplice e si blocca abbastanza il gioco quando selezioniamo nella vecchia fattoria sono le altalene l'anello di fuoco l'abbiamo visto il tifone oh questo sembra figo questo sembra veramente bello tema avventura lo mettiamo così così la gira ruota ah ok anche questa è un'altra linea che gira flusso gravitazionale questo sembra si ok ti frullano abbiamo la catapulta tycoon il giro in orbita il tornado la suddivisione verticale un carrozzello rotante spinge il pogono inclinabile nostro verso l'esterno via via la lorista aumenta poi tutta la giusta viene ribaltata di 90 gradi sembra interessante chiunque abbia fatto quella descrizione mi ha venduto il gioco ok e poi cosa abbiamo di interessante 0g spero che è semplice la torre e il twisted ok è una rotazione immagino che poi il braccio si alza esatto mentre i sedili ruotano andiamo ad aggiungere delle file a questa roba facciamo semplicemente così ok andiamo ad aggiungere i sentieri dritti e così ok e andiamo ad aprire 2-3 le trazioni aperto 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 ok la gestione ragazzi però questa cosa dell'adrenalina è tutto io spero che si possa regolare in qualche maniera perché le montagne russe ok ma l'altra roba a parte sì l'altra roba effettivamente è quella la trazione quindi non è che possiamo più di tanto cambiare ok ok queste cose guardiamo quale parte per prima immagino il tappeto superflyers è ancora rotta ah non abbiamo i meccanici ovviamente ok il tappeto è partito guardiamolo da fuori ragazzi ok niente di che questo qui invece sembra interessante ah ok come vedete sono dei posti a sedere a giro vediamo quale parte prima fra queste e quella accanto il tappeto non è niente di che ah questo qui eccolo qui ok sono esterni pensate che sono interni i posti intanto stiamo guadagnando stiamo spendendo molti soldi ma ne stiamo guadagnando anche diversi a parte quello che si incrina così ok carino questo ci vuole 2 ore a partire ci sono un sacco di posti a sedere a parte qua eh e ci siamo ok parte dai questo guardiamocelo ok l'adrenalina è il fatto che questa roba tremi cosa urlate ok si praticamente c'è questa montagna russa dove scorriamo mentre ruotiamo niente di che ok ok si questo è il punto massimo diciamo di divertimento si un po' di movimento ma niente di che oh passiamo alle cose divertenti ragazzi le montagne russe 8 volanti 8 volanti sono montagne russe in acciaio con punti di scesa massima di oltre 60 metri queste montagne russe sono tante speciali sedili noti come formazione V allora qui abbiamo un po' di problemi di nausea e un po' di eccitazione non lo so di noia alcuni noia 58 si probabilmente si quindi abbiamo 8 volanti sono questi qui di legno le montagne russe di legno hanno rotaie di acciaio appiattito e sono montate su binari di legno laminato senza seduta si sta in piedi i visitatori restano in posizione letta per tutto il tempo del giro a tuffo sono in metallo e fanno vivere i passeggeri in caduta libera con almeno con almeno una discesa a 90 gradi ok queste sono quelle pre realizzate e poi si facciamo una cosa ragazzi prendiamone per esempio 8 volante cosa abbiamo? abbiamo Apollo Corsa Cosmica Extreme Express Corsa Sfrenata e Corsa Energetica ok mi ispira questo è molto grande ma ma non c'entra non c'entra non c'entra ah no c'entra precisa la rotiamo di 180 ce la facciamo? ok abbiamo posizionata si posizionano tutti i pali penso di poter regolare eccolo qui modifia montagne russe allora questo è l'editor che abbiamo normalmente abbiamo pezzi speciali che sono le varie evoluzioni l'angolo di torsione la grandezza del segmento inclina di 90 gradi inclina dei vari gradi ruota di questi gradi abbiamo la possibilità di inserire le testazioni dei meccanismi aggiuntivi ovvero binario standard catena di salita frena a frizione potenziamento e sistema di frenaggio resta completamente il treno permettendogli di proseguire solo se nel segmento seguente non ci sono treni praticamente è uno stop abbiamo la possibilità di scegliere la carrozza il colore della carrozza il vagone fantascientifico l'astronave per esempio possiamo modificarne una per una come vedete farne una in un modo una in un altro ovviamente non è proprio il massimo i colori della del nostro percorso li possiamo scegliere come vedete separati per le varie cose quindi binario continuo a scegliere binario colori ah ok abbiamo binario montagne russe struttura delle montagne russe quella lì e supporti delle montagne russe possiamo farle tutti i colori che vogliamo poi abbiamo il test della nostra montagna russa andiamo a fare il test e andiamo a vedere di avviare con la videocamera del giro ok montagne russe di colore veramente orripilante questo verde acceso leva di sentimento però vabbè ci proviamo mentre i nostri amici urlano sulle alte montagne russe ci proviamo velocemente questa che dovrebbe essere un otto volante classico qui c'è un turbo wow ok eh eh hanno migliorato effettivamente la fisica però non è ancora buona cioè non mi da ancora il senso di 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 effettivamente ragazzi planet coaster quando sono costruite bene le montagne russe danno proprio il senso di velocità queste no forse è questa montagna russa che non va bene abbiamo una course crew molto stretta una curva diremmo molto stretta e arriviamo in fondo come vedete ci fermano e poi proseguiamo a velocità minima ok andiamo a vedere l'espansione parco wow questo non lo sapevo come in city skyline ragazzi possiamo comprare lotti di terra per ampliare il nostro parco ok andiamo a vedere montagne russe allora abbiamo andiamo arrivati a tuffo andiamo a vedere un attuffo per esempio la nefarius si vabbè tanto non c'è bisogno di di cosarle di avviarle a tuffo se vuol dire siamo a sedere questi cosi molto larghi una discesa di almeno 90 oh 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 quella anche questo colore orrepilante mi ricorda un po' i cazzo come si chiamano ecco non potevo fare queste figure di merda ehm dai l'insettoni di warhammer 40.000 porca porca iiii 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 intanto siamo alla discesa wow ok eh però ragazzi non da il senso non da il senso di vuoto questo è vero questo è vero non da il senso di vuoto che ci dava l'altro ehm hm vabbè allora andiamo a farne una andiamo a farne una senza appoggiapiedi le volanti che cazzo vuol dire volanti scusate le montagne rosse volanti danno ai visitatori la sensazione volare sistemandosi distesi anziché seduti ah ok le invertite le conosciamo bene le accelerate sono quelle promosso ok abbiamo sì ovviamente passato il test perché è una montagna russa prefatta ehm abbiamo quelle accelerate che sono quelle all'americana nel senso si parte normali e vi si viene sparati fulmine d'argento top hat le alate che sono quelle coppie di visitatori siedono ai lati del binario con i piedi penzoloni ok e poi abbiamo l'ultimo tipo che è ruotanti ah i pagoni ruotano ok c'è anche questa che sembra carina come cosa proviamo a vederne una sì ma se non gli do il testa è utile proviamo ok ah ruotano così questa cosa dà noia molta noia ma ma seriamente ruotano a questa velocità ma siamo a velocità 1 cos'è ma cosa ci capisce una persona normale in questa cioè scusate che punteggio di nausea ha questa cosa velocizziamo un attimo perché alla fine del testa ci dai punteggi di nausea si lo so lo so devo aumentare il numero di cose ok promosso ma ne ho usato 4 e 4 media vabbè ok ragazzi prendiamo un facciamo 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 otto volante classico e iniziamo con la costruzione di montagna russa quindi cosa vogliamo fare vogliamo fare una montagna russa allora abbiamo selezionato la stazione l'abbiamo posizionata andiamo subito a scegliere i meccanismi e andiamo a fare catena di risalita in questa maniera cliccando qui dobbiamo fare così allora quando non parte dobbiamo prendere questo pin bianco e spostarlo con shift e rotellina del mouse andiamo a selezionare l'altezza allora l'altezza ragazzi la possiamo fare veramente quanta ne vogliamo ora levo il rumore al mouse almeno facciamo questa cosa ecco per esempio questa qui è una cosa totalmente fattibile in questo gioco siamo all'indietro qui lo so sì ok ritorniamo a meccanismi andiamo a prendere binario standard binario andiamo a prendere un pin qui in questo punto andiamo a selezionare una discesa e andiamo a fare una cosa del genere scendiamo il pin è sempre bianco ci ricollega nella maniera più diciamo logica al pezzo precedente questo è il procedimento diciamo automatico se io clicco qui posso andare immagino a regolare la grandezza del segmento l'angolo di torsione del segmento le curve che gli possiamo dare come in planet coaster e aggiungere eventuali pezzi speciali che questo non ce lo fa mettere per esempio questo ok questo sì volevo un call screw right dive loop small left small right ubicazione non valida small left uguale vero ubicazione non valida ma lo posso spostare ok lo spostiamo un attimo così tipo e ci proviamo a mettere ecco appunto questo costruiamo questo e adesso vi faccio vedere per esempio se io vado a prendere il pezzo normale binario e vado a selezionare il punto qui e lo vado a mettere lì ok come vedete ci arriva io seleziono poi l'ultimo pezzo di binario meccanismi ok selezioniamo questo e gli mettiamo freno a frizione ok gli possiamo aumentare la forza del freno a 10 nel massimo qui possiamo stessa cosa la velocità della catena la possiamo aumentare immagino a 30 raddoppiata no 20 e proviamo il test qui abbiamo la velocità forza laterale forza verticale adrenalina intensità e nausea testiamo il coso e andiamo a vedere la videocamera wei 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 piano velocità 1 videocamera e vediamo un po' questa montagna russa buttata giù in 2 minuti ragazzi non abbiamo analizzato troppo l'edito però più che altro abbiamo analizzato la velocità a cui si realizzano queste cose ok qui abbiamo una discesa abbastanza tranquilla alla fine adesso vediamo se dovremmo riuscire tranquillamente a fare questa cosa wow un core screw ci piantiamo nei pali e poi una discesa abbastanza tranquilla a cappalli in giù con i freni che non bastano però per fermarci bocciato questo perché i nostri freni non sono sufficienti a fermare il nostro vagone quindi per esempio se vogliamo frenarlo dovremmo selezionare il segmento precedente e aggiungere freni allora se vado a vedere testa e facciamo testa ci dovrebbe far vedere penso anche la velocità velocizziamo un attimino grease the tracks dovrebbe dire grease the tracks ingrassa i binari bocciato un sistema di frenaggio non ha funzionato e un trenato volante uno non si è fermato allora questa è la velocità questa è la velocità nella nostra montagna russa come vedete aggiungiamo una punta di 112 qui abbiamo una forza laterale presso che nulla un pochino qui una forza verticale abbastanza alta qui nella salita e qui in questi due punti un'adrenalina molto bassa un'intensità molto alta nella parte finale dove ci sono i freni che inchiodano e una nausea tranquilla ok ragazzi direi che possiamo chiudere qui questo just a look abbiamo fatto un'analisi molto veloce di quello che è lo stato attuale 21 aprile oggi che registro domani 22 che pubblico planet coaster roller coaster tycoon world non è perfetto ha ricevuto veramente tante recensioni negative perché hanno voluto farlo uscire il 30 di marzo con un altro po' tanto di lavoro questo gioco può diventare valido non me la sento di consigliarvelo però se vi piace il genere seguite lo sviluppo del gioco sulla pagina steam sulla pagina facebook insomma informatevi su quello che è 2 roller coaster tycoon world e vedete un pochino se vi può interessare un futuro ragazzi per questo primo just a look di ritorno è tutto come sempre se il video vi è piaciuto mettete mi piace lasciatemi un commento ed iscrivetevi al break to play un saluto a tutti da Nicolas ci vediamo nel prossimo video ciao ciao